Si intensifica l'azione dei Baschi Verdi di Venezia a tutela della vivibilità degli spazi urbani nella terraferma veneziana. Nell'ambito del piano Venezia Sicura sono stati infatti intensificati i controlli delle forze dell'ordine anche sulla terraferma veneziana, soprattutto nella zona nota come piazze di spaccio e stupefacenti maggiormente frequentate da spacciatori e clienti. Questa volta, dopo le numerose segnalazioni dei residenti, l'azione di servizio è stata sviluppata a Mestre, dove una pattuglia del nucleo operativo o pronto impiego nei giorni scorsi, dopo alcune ore di appostamento, nei pressi di un'attività commerciale spesso frequentata da soggetti dediti all'utilizzo e allo spaccio di droga, ha notato due soggetti che, appartati in una vicina area isolata, si passava di mano in mano degli involucri. Alla vista delle fiamme gialle, i due si sono dati immediatamente alla fuga, inseguiti però dai militari. Poco dopo, i baschi verdi sono riusciti ad acciuffare uno dei malviventi, sottoponendolo a perquisizione personale. Si tratta di un cittadino tunisino, risultato non regolare sul territorio e gravato da numerosi precedenti. In tasca aveva tre involucri, contenenti circa 20 grammi tra eroina, cocaina e marijuana, dosi già pronte per essere smerciate. Così è scattato l'arresto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. Si è già svolto il processo per direttissima. Lo spacciatore è stato condannato a nove mesi di reclusione e una multa di 800 euro. L'azione della Guardia di Finanza continua e sarà sempre volta a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti nel territorio veneziano.